Nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Bande di Giro, la Regione Puglia ha assicurato sulla ripresa delle attività che avverrà durante la prossima estate. In servizio. Per riascoltare il suono e le musiche delle bande, bisognerà attendere l'estate, quando nel rispetto dei protocolli anticontagio potranno tornare a rendere festose le strade dei comuni pugliesi. A rassicurare l'Associazione Nazionale Bande di Giro è stato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, intervenuto in sfide future delle bande da giro, il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione in cui sono stati affrontati i temi e i problemi relativi alle attività delle bande che hanno subito restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. A preoccupare l'Associazione è stata la decisione di alcune diocesi pugliesi di impedire le attività per tutto il 2021. Qualche giorno fa c'è stato un documento di alcune poche diocesi della Regione Puglia. Questo documento ci ha lasciati molto rigidi in quanto questo documento prevedeva a tutte le parrocchie, a tutte le città comprese nelle diocesi, il divieto di poter organizzare feste patronali e parrocchiali anche per l'anno 2021. E' ovvio che se oggi parlassimo di poter aprire le feste patronali saremmo solamente degli irresponsabili. Nessuno vuole vivere di ristori ma tutti quanti vogliono tornare principalmente a lavorare perché il lavoro nobilita e dà molta dignità all'uomo. E noi abbiamo chiesto semplicemente un accordo tra la parte politica e la parte religiosa. Da qui l'appello a istituzioni politiche e religiose che affinché consentano alle bande di tornare a lavorare in sicurezza. Appello raccolto dalla Regione Puglia. Che noi siamo pronti a raccogliere mettendo a disposizione non soltanto risorse ma la presenza fisica di Regione, dei suoi enti partecipati, tutti i luoghi nei quali si vuole musica da banda, si vuole far tornare a vivere le bande. Da questa estate per quanto ci riguarda sono a disposizione con tutte le possibili norme di sicurezza, i protocolli li avevamo approvati l'anno scorso, li riapproveremo quest'anno, i protocolli di sicurezza hanno funzionato l'anno scorso, funzioneranno quest'anno. Vi prego e vi chiedo di presentarci il prima possibile un grande progetto per poter appunto questa estate tornare a dire che la banda è vita, la banda è comunità, la banda è pubblica.